Buongiorno a tutti, io darò delle brevissime informative riguardanti sia la compilazione dei questionari sulla qualità, come abbiamo già anticipato sul nostro sito, i questionari per le attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza che scadevano il 18 febbraio sono stati riaperti per qualche settimana da Arera, il 16 marzo invece per la compilazione dei questionari sulle attività di raccolta e trasporto e o spazzamento strade rimane fermo, il 28 febbraio invece è il termine entro il quale inviare ad Arera notizia della contribuzione, in questa occasione ricordo che i comuni che fanno solo attività, solo ed esclusivamente attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza sono esclusi dal contributo, ma comunque devono compilare il format che dichiara l'esclusione. Un'altra informativa importante è che i nostri emendamenti, sia quello di spostamento dei termini al 2021 dell'operatività e dell'obbligatorietà del rispetto delle prescrizioni Arera non sono stati accolti e non è stato accolto neanche l'emendamento che sospendeva le sanzioni solo per il 2020, perciò le prescrizioni di Arera sono operative e vincolanti, mi preme precisare che i tempi sono stretti, ci aspettiamo una certa flessibilità da parte di Arera, ma soprattutto nel rispetto comunque, nella dimostrazione di aver cercato di rispettare il nuovo metodo regolatorio, se alla fine di questa implementazione dovesse uscire un prodotto subottimale, comunque sappiamo che Arera ne terrà conto in maniera positiva, quindi occorre rimboccarsi le maniche e cercare di fare il più possibile. Rimando la lettura comunque della delibera a un'ultima informativa, a breve pubblicheremo un'altra nota che contiene valutazioni alla delibera 443 che è anche oggetto del presente webinar, questo webinar si pone come il secondo ciclo sul tema, questo secondo ciclo contiene anche delle riflessioni che noi abbiamo compiuto alla fine del primo ciclo, alla fine delle vostre domande, delle vostre osservazioni, delle vostre richieste di chiarimento, quindi nelle slide che presenterà ora l'ingegneria Cotucci, domani l'ingegner Giaccetti e il 4 marzo il dottor Davide Donadio, già sono contenute, scusate, a seguire il 25, 26 e 27 marzo, sono contenute gran parte delle risposte alle vostre domande. Io vi auguro buon webinar, continuerò a seguire le vostre risposte, cercherò di rispondere in tempo reale e ci vediamo dopo. Passo la parola a Francesco Iacotucci. Eccoci qui, buongiorno a tutti, oggi riprendiamo il ciclo dei webinar e con questa mia presentazione di oggi andrò a completare un po' la presentazione fatta oramai un mese fa e dall'altra invece cercherò di rispondere a alcune domande che sono state poste proprio durante il webinar o comunque che in generale ci sono arrivate. Quindi appunto riprenderemo dall'introduzione alla regolazione, ripetremo soprattutto la parte del PEF con una particolare attenzione sulle competenze e su che cosa deve fare ognuno per mantenere i tempi perché come ricordava la dottoressa Proia uno degli elementi più importanti è proprio il fatto che proroghe non ce ne sono state. Quindi il 30 di aprile è lì e quindi noi dobbiamo lavorare affinché quel 30 di aprile siamo pronti con tutti quanti gli atti, quindi con il PEF e poi con la parte di articolazione tariffaria. Vedremo quindi la classificazione dei costi e la componente a conguaglio che è uno degli elementi più complessi di calcolo di questo metodo. Ma la cosa più importante è proprio riequilibrare, rivedere il metodo e ciò che è stato determinato da RERA soprattutto nella sua parte in positiva e lo vedremo tra un attimo perché. Ricordiamo che le funzioni attribuite ad RERA sono funzioni attribuite dalla legge 205 del 2017 e le funzioni di regolazione che sono state date ad RERA e il controllo del ciclo dei rifiuti anche differenziati urbani e assimilati da esercitarsi con i medesimi poteni nel quadro dei principi delle finalità e delle attribuzioni anche di natura sanzionatoria stabiliti dalla legge istitutiva, quindi la 481 del 14 novembre del 1995 e già esercitate negli altri settori di competenza. Altro elemento fondamentale, l'abbiamo detto più volte, la regolazione pone al centro l'utenza e quindi tra le funzioni attribuite all'autorità rientrano anche la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti. Tutto questo è molto importante perché, e soprattutto questo poi anche nelle risposte che daremo ai vari dubbi che sono venuti, cos'è RERA? RERA è sì una pubblica amministrazione ma anche con poteri non solo amministrativi. Quindi RERA è un'autorità riconducibile all'apparato amministrativo dello Stato, opera nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali non è soggetta alla direzione politica del governo. Quindi, pur classificata come organismo formalmente amministrativo, RERA deroga al principio della separazione dei poteri, potendo adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori. Quindi, quello che è stato una volta formulata la legge delega, che infatti è la legge delega del Parlamento, RERA può fare e quello che determina, quindi le sue leggi, sono leggi a tutti quanti gli effetti. L'unica possibilità di controbilanciare questi poteri sono determinati dalla magistratura amministrativa. In questo mi permetto di aggiungere un altro elemento a quello che diceva la dottoressa Proia, perché non sono le richieste di revisione di fatto della delibera 443 non sono andate in porto e c'è un elemento negativo in tal senso anche dal sottosegretario. Ma anche le cause portate al TAR Lombardia, che è quello delegato proprio per controbilanciare, come abbiamo detto, RERA, sono state ad oggi, la prima che è arrivata al TAR Lombardia è stata rimandata a maggio. Quindi ad oggi non ci sono elementi per dire che tutto quello di cui stiamo parlando e che comunque è contenuto nella 443 possa non essere applicato. Quindi con molta calma andiamo avanti e vediamo che cosa dobbiamo andare a fare. Qui ricordiamo il percorso e la regolazione, in realtà non è che arriviamo all'improvviso alla fine del 2019 con le delibere 443 e la 444. C'è stato un percorso piuttosto lungo, devo dire poco partecipato perché i documenti di consultazione ne sono stati fatti da parte di ARERA, hanno partecipato molto poco sia le amministrazioni che i gestori della nostra nazione, motivo per cui poi molti dei dubbi che sono stati espressi ora, le realtà per ARERA sono novità assolute. E quindi forse anche per questo ci troviamo in una situazione di non conoscenza totale da parte di ARERA di quello che è una realtà molto differente all'interno della nostra nazione. L'altro elemento fondamentale è che il metodo tariffario dei rifiuti e come vedete al centro di quello che è l'elaborazione di ARERA e la parte della trasparenza, la 444, non sono che l'inizio di un percorso piuttosto lungo che porterà anche a definizioni di altri parametri molto importanti all'interno del ciclo dei rifiuti. Il primo di questi elementi è la qualità commerciale di cui l'oggetto è proprio quello delle richieste e dei rimandi che tra l'altro la dottoressa Proia ha già detto che si stanno effettuando. Difatti la qualità commerciale doveva avere una prima DCO a marzo, probabilmente slitterà di qualche mese, ma il percorso che poi si completerà con il contratto di servizio, la bundling completo e la qualità tecnica andrà di fatto a rivedere totalmente il percorso e ciò di cui noi siamo abituati andrà a sovrapporsi totalmente soprattutto alla 158 del 99 di cui di fatto questo metodo non va che a toccare soltanto un primo pezzo. Allora qui appunto respiriamo, oramai è tutto quanto definito e tutto lì, l'importante è approcciare il metodo. Uno dei messaggi che Arera ha dato in più di un'occasione all'interno anche degli incontri anche formali e informali che sono stati fatti, l'indicazione fondamentale è utilizzare il metodo. Qualora anche non si riuscisse a utilizzare nella sua totalità, l'importante è approcciare il metodo, approcciare quella che è la filosofia del metodo insieme al gestore e l'ente territorialmente competente e di questo eventuali problemi inserirli all'interno della relazione. Ecco, per qualsiasi dubbio questi sono i riferimenti fondamentali, queste sono le mail da utilizzare per le richieste Arera, quindi regolazione-rifiuti-arera.it, questo è un numero di telefono. Vi dico che spesso però Arera richiede di reinviare le richieste anche tramite PEC e poi invece c'è il canale IFEL. Oltre i webinar e altre informazioni sul sito fondazioneifel.it, sempre attivo è anche l'email assistenza-mtr-fondazioneifel.it in cui noi cerchiamo di rispondere, devo dire, anche in quello che troverete dopo, devo fare una precisazione. Arera risponde per iscritto molto poco, quindi molte anche delle interpretazioni che noi abbiamo dato sono interpretazioni venute spesso da interlocuzioni orali con Arera o anche da risposte date ad altri enti. Però è fondamentale far circolare queste informazioni e quindi cercare di fare, ovviamente, di attuare questo metodo al meglio possibile. Per cui la nostra opinione è che comunque anche queste informazioni vadano circolarizzate. L'altra informazione è anche che Arera nei prossimi giorni dovrebbe pubblicare una nota in cui dovrebbe spiegare che cos'è la parte di approvazione di Arera e che cosa succede in caso di non approvazione da parte sua del PEF e con l'occasione dell'apertura invece del portale per l'inserimento dei dati del PEF dovrebbe in quel caso andare a discernere alcuni dei casi anche ed esplicare rispetto al gestore e l'ente territorialmente competente. Ma su questo vedremo dopo qual è lo stato dell'arte ad oggi. Altro elemento importante, mentre noi parliamo quindi nei dubbi tra gestore e enti territorialmente competenti l'abbiamo detto prima, il centro rimane il fatto che rimane il centro l'utente e di fatti quello che Arera era già aperto, quindi prima ancora di tutte queste informazioni di cui vi stavo dicendo, lo sportello per i consumatori e questo sportello è aperto ovviamente a tutti i cittadini e Arera non chiede già ancora le informazioni relative al metodo ma in realtà apre a questa possibilità a tutti gli utenti anche per quanto riguarda la parte già della qualità del servizio e dice anche se non sono ancora oggetto della regolazione per Arera questo è un'occasione per fare una raccolta dati e capire quali sono le problematiche del settore e sulla base di questo puoi poter verificare anche ovviamente i passaggi successivi come poterli andare a regolare. Ritorniamo a quelli che sono gli elementi fondamentali per Arera rispetto al metodo questo è preso da una presentazione di Arera e vedete che quello che viene citato tantissimo è proprio l'utilizzatore del servizio e la forma di tutela e la forma di trasparenza per gli utenti finali in realtà sono entrambi riferiti alla parte del costo di fatti per tutela per gli utilizzatori del servizio è per Arera il limite alla crescita delle entrate tariffarie la trasparenza è proprio definita nella relazione tra costo effettivo e tariffa inoltre questo è ripreso anche nella trasparenza tra gestori e comuni perché viene preso come modello di trasparenza il fatto che il corrispettivo venga relativo proprio al costo effettivo e non solo a base di previsioni così come era fatto fino agli ultimi anni gli altri due pezzi invece sono i pezzi relativi ai gestori cioè qual è? lo vedremo in particolare dopo ma molti gestori si lamentano del fatto che con questo metodo venga di fatto azzerata il proprio margine ecco per Arera il margine è legato a una visione industriale e a una capacità di gestione del sistema stesso e ricordiamo anche il periodo regolatorio il periodo regolatorio non è molto lungo sono 4 anni a partire dal 2020 quindi fino al 2023 ed è diviso in due semiperiodi primo semiperiodo quindi 2021 e il secondo 22-23 il metodo tariffario proprio per la sua complessità e anche per una questione che sicuramente Arera ha immaginato di andarla a rivedere nel secondo semiperiodo appunto effetto soltanto nel primo semiperiodo invece la parte di trasparenza è effetto per l'intero periodo regolatorio per quanto riguarda le scadenze ricordato dalla dottoressa Proia già la seconda sulla prima invece è importante ricordare che il 17 gennaio è scaduto di fatto il limite per il versamento del contributo da parte degli esercenti dei servizi del settore sarebbero tutti quanti i gestori di questo Arera ha dato un'interpretazione per cui i comuni che effettuano soltanto un servizio di gestione delle tariffe sono esentati dal versamento di questo contributo tutti quanti gli altri invece devono fare questo versamento e deve essere comunicato entro il 28 febbraio anche i dati relativi alla contribuzione ricordiamo che questi dati oltre a dover essere versati sono anche all'interno del metodo quindi è importante non solo versarli ma il calcolo deve essere messo all'interno del metodo le altre scadenze la parte della trasparenza di cui vedrete nel terzo webinar le scadenze anche queste ricordiamole perché sono anche queste piuttosto vicine il primo aprile 2020 per tutti i gestori e comuni sopra i 5.000 abitanti e il primo gennaio 2021 per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti invece la scadenza per la 443 quindi la determinazione delle tariffe è ancora il 30 di aprile e quindi su questo poi dobbiamo ragionare allora un primo elemento di chiarimento perché è una delle domande che più spesso sono arrivate allora il costo così come esce dal metodo 443 proprio per i poteri anche normativi di Arera è il prezzo massimo e di questo non vale nessuna alternativa quindi non c'è nessuna possibilità di un costo superiore a quello che esce dal metodo quindi né se ci sia stato una contrattualistica una gara, un affidamento nessuna di queste cose può superare il costo determinato dal metodo quello che consente il metodo la 443 è che il prezzo sia inferiore e infatti consentendo come dice la stessa Arera all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali questo vi ricordo è l'oggetto proprio delle cause di fronte al tar come già vi ho detto la prima è stata rimandata a maggio e quindi di fatto ad oggi quello che vale è la legge cioè l'MTR e il suo prezzo massimo poi valuteremo lo vedremo dopo cosa significa il prezzo massimo rispetto poi alle esigenze dei gestori perché se è vero che questo è il prezzo massimo è anche vero che è consentito ed è ancora anzi obbligatorio per gli enti tenere quello che è l'equilibrio economico finanziario dei gestori l'MTR quindi qual è la disposizione generale è una disposizione avente oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati urbani e assimilati ovvero dei singoli servizi che lo compongono e perché sottolineato questo ovvero dei singoli servizi che lo compongono perché questo va a riportare nella prima definizione che è stata oggetto di tantissime domande cioè chi è il gestore perché il gestore per la definizione anche data da Arera è il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio i vinclusi comuni che lo gestiscono in economia ma di questo ve ho già fatto riferimento nel primo webinar è importante vedere la risposta data da Arera per capire chi è il gestore perché per Arera oltre appunto a evitare letture formalistiche della definizione di gestore e questo però ci deve far intendere che bisogna sempre pensare all'obiettivo fondamentale e non una lettura anche formalistica dell'MTR che è piuttosto scarno tra l'altro di spiegazioni Arera dice a noi interessa la fonte del dato ovvero la responsabilità del dato quindi chi fa la dichiarazione di veridicità sui dati inclusi nel calcolo tariffario è il gestore in qualsiasi caso è necessario fare il PEF secondo i criteri indicati nell'MTR dall'autorità l'obiettivo della riforma è quello di garantire un controllo sui costi da parte di chi quei costi li produce e quindi questo è un elemento sicuramente importantissimo il gestore è quello che ha i costi quindi anche nel caso in cui il comune effetti una parte dei servizi anche il comune è considerato gestore l'altro elemento di grandissima discussione allora il metodo facciamo una premessa il metodo è stato fatto considerato degli enti territorialmente competenti ed è stato fatto considerando che gli enti di governo dell'ambito o iato o iegato così come l'ultima determinazione fossero ampiamente funzionanti in quasi tutte quante le nostre regioni la definizione di fatti di ente territorialmente competente che si dà all'interno del metodo è l'ente territorialmente competente è l'ente di governo dell'ambito laddove costituito ed operativo o in caso contrario la regione o la provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente ora questa è una definizione che considerato che la legge istitutiva degli enti di governo di ambito è del 2011 evidentemente Arera avrà immaginato che questi enti fossero costituiti operativi un po' ovunque e soprattutto che fossero uniformi secondo quello che è il loro funzionamento ora questa cosa non è infatti io ho scritto facile a dirsi meno a farsi perché la situazione nelle regioni è molto differente tra di loro e lo stato di attuazione anche delegato in fasi molto differenti tra di loro ora su questo detto qual è lo stato delle cose allora alcune regioni stanno valutando delle note di chiarimento in modo da dare una definizione a livello regionale di che cos'è l'ente territorialmente competente anche Arera come ho detto prima si è impegnata a pubblicare una nota di chiarimento questo con l'occasione della pubblicazione del portale in inserimento dei dati al netto di tutto questo l'invito fondamentale è nel ricordare che anche i comuni possono essere enti territorialmente competenti ricordiamo che nella maggioranza dei casi sia l'approvazione del PEF che delle tariffe sino all'anno scorso è stata fatta da i comuni e quindi di fatto i comuni erano gli enti territorialmente competenti e questo non cambia rispetto al metodo di quest'anno perché il metodo ricordiamo ancora non va a variare una definizione prende in questo caso una definizione di legge è ovvio che da questo punto di vista l'onere dato dal metodo ha fatto risvegliare sia i comuni sia gli ato rispetto alle rispettive competenze allora l'invito è nel ricordare che i comuni possono essere enti territorialmente competenti laddove l'ato non sia costituito ed operativo è fondamentale avviare il processo di richiesta di dati al gestore soprattutto quando il rapporto con il gestore ce l'ha il comune quindi quello che l'invito fondamentale è di inviare la nota con cui si richiedono i dati iniziando a dare delle tempistiche e ricordando che su questo poi è possibile segnalare ad Arera eventuali difformità o gestori che si rifiutano di inviare questi questi dati quindi è fondamentale riprendere fare queste richieste ai gestori e poi dialogare con lato lì dove definito per far sì che poi si possa produrre il PEF e l'articolazione tariffaria entro il 30 di aprile in questa fase perché abbiamo una domanda molto interessante che finora non era mai capitata ossia nel caso in cui un comune abbia chiesto i dati e evidentemente con lettera scritta il gestore si sia rifiutato di dare il PEF cosa fa il comune si affida prende a riferimento l'ultimo PEF disponibile che nel loro caso è il 2018 possiamo prevedere una modalità per cercare e comunque dare dimostrazione ad Arera del fatto che comunque il comune si impegnerà con i dati disponibili in presenza di una dichiarazione formale del gestore che non manda dati allora in questo caso sono due le attività da fare allora uno va segnalato ad Arera il fatto che il gestore si sia rifiutato di mandare i dati due e due invece è importante che anche il comune o lente che ha il rapporto con il gestore provveda a delle sanzioni al gestore in accordo con il contratto allora l'elemento che ci dobbiamo ricordare è che questa norma di fatto cambia tutti i contratti quindi è semplicemente un'aggiunta automatica determinata dalla norma nazionale a qualsiasi contratto in essere quindi va intimato il gestore e vanno fatte anche delle penali nel momento in cui non invia questi dati sul cosa succede nel momento in cui il gestore oltre il limite massimo che noi gli abbiamo dato si rifiuta di inviare i dati ovviamente non possiamo far altro che andare sulla parte previsionale ma di fatto non stiamo applicando il metodo quindi la stessa il mio consiglio è di comunicare ad Arera che il gestore si rifiuta e che e comunichiamo anche qual è la nostra decisione in tal senso quindi dicendo che riproveremo a chiedere al gestore che se entra una certa data si rifiuta di inviare questi dati provvederemo e diciamo il modo in cui provvederemo ad approvare il PEF e quindi le relative tariffe in generale quindi è fondamentale creare una quello che abbiamo chiamato una circolazione delle informazioni allora cosa capita in moltissimi casi capita in molti casi che ci sia un ente un ente d'ambito un negato ma semmai non è ancora pienamente funzionante allora quale sia il ruolo di questo ato all'interno del processo di definizione del PEF si sta determinando anche come dicevo a livello regionale e probabilmente anche Arera definirà un pezzo di questa definizione e interpretazione l'elemento fondamentale ripeto è che se il comune ha una relazione diretta con il gestore cioè non sono state fatte già gare diato è fondamentale prendere rapporti con il gestore chiedere che il gestore si iscriva all'anagrafica Arera che versi contributi e dia le informazioni previste dall'MTR il rischio è che poi dopo Arera possa richiedere al comune motivazioni per cui non si è approvato le tariffe secondo l'MTR altro elemento importante anche qualora gli ato siano creati e funzionanti quindi stiano per definire i PEF è comunque quindi qualora i comuni poi vadano a determinare l'articolazione tariffare e l'approvazione della tariffa e comunque avere una relazione con gli ato per determinare i parametri e quindi per cercare di capire poi qual è l'ammontare della tariffa perché poi su quello il comune poi potrà fare molto poco nel momento in cui viene inviato in maniera definitiva ripeto una definizione assoluta del ente territorialmente competente se sia lato o il comune ad oggi non c'è ci sono interpretazioni delle varie regioni si sta lavorando anche da parte di Arera per una definizione complessiva l'importante ripeto bene è scrivere al gestore e farsi inviare i dati e qualora come qualcuno ha segnalato il gestore si rifiuta ricordare che i ricorsi al tariff ad oggi sono stati inviati per cui non ci sono determinazioni diverse da quello che è l'MTR e quindi loro sono obbligati a inviarli di questo già era stata inviata una nota da parte IFEL il 9 di dicembre che comunque vi invito a rileggere e ovviamente diciamo appena avremo poi elementi ulteriori vi comunicheremo rispetto a queste rispetto a altre semplificazioni vedo anche sugli avvicinamenti di ditte parleremo tra pochissimo questi sono il flusso dei compiti ecco io quello che vi ho detto vi invito a non vederlo come un flusso totalmente lineare vi invito comunque a comunicare eventualmente fare incontri con i gestori e col lato laddove sia costituito perché in modo da condividere il prodotto finale in generale perché vi ho detto di invitare il gestore a inviare la sua parte di PEF perché di fatto il PEF è al 90% determinato da quello che scrive il gestore perché il gestore è tra quello che scrive a livello numerico in quello che abbiamo chiamato il PEF grezzo quindi nella parte di sua competenza nelle voci di sua competenza ma soprattutto in quello che il gestore inserisce nella relazione di accompagnamento di fatto determina quello che poi saranno le possibilità di scelte dell'ente territorialmente competente cioè l'ente territorialmente competente ha molti margini di scelta e lo vedremo ma sono tutti basati su quello che il gestore ha scritto o nella parte di PEF grezzo o ancora di più nella parte della relazione di accompagnamento sulla parte di approvazione due cose fondamentali allora l'ente nel momento in cui approva le tariffe è un'approvazione reale non deve attendere nessun'altra approvazione di nessun genere qui anche nel metodo è scritto l'approvazione da parte di autorità ma in realtà è un'approvazione nel senso regolatorio cioè significa che Arera nel momento e se dovesse andare a verificare il PEF potrà da quel momento in poi andare a verificare se ci sono dei delta da dover riconoscere eventualmente all'utenza e solo in quel caso poi dopo adotterà le proprie determinazioni come già vi ho detto questo sarà il oggetto di una specifica nota che dovrebbe uscire nei prossimi giorni e qui iniziamo a elaborare un po' di risposte rispetto a quello che ci è stato chiesto ma vedo anche che sfogliando un po' le domande ancora sono dubbi giustamente diciamo che vengono in questo momento allora una delle difficoltà più grandi che stanno avendo i gestori sono soprattutto i casi di gestori che hanno un affidamento con più comuni perché questo perché dovendo andare a prendere i costi effettivi cioè quelli di bilancio di un certo anno in questo caso il gestore dovrà fare un lavoro molto importante cioè definire rispetto ai costi di bilancio quali sono i driver cioè i criteri di separazione dei costi dei vari comuni serviti e deve inviare un PEF a ogni singolo comune distinguendo eventualmente i costi nel perimetro da quelli esterni quindi c'è un obbligo per quanto riguarda il gestore di prendere i costi di bilancio nel caso del 2020 i costi del 2018 e differenziare rispetto al comune dicendo qual è il criterio di ripartizione ed è sicuramente uno degli elementi più difficili perché il gestore ma anche l'ente fino ad oggi è abituato a lavorare sulla base del contratto invece in questo caso si deve andare a prendere quello che è il costo effettivo rilevato a un certo anno nello specifico il 2018 nel caso invece di un comune con più gestori allora il principio generale quindi quello dettato da Rera è che chiunque svolga una parte del servizio integrato sia soggettato al metodo quindi per principio generale tutti devono mandare un PEF e quindi una separazione dei costi così come è stato determinato dal metodo è stato in più riprese richiesto ad Rera di definire un possibile discrimine tra prestatori di servizio cioè quei servizi minimali il cui costo può essere emesso direttamente del PEF e gestori il cui costo invece deve essere inviato secondo il metodo Rera come dicevo si è impegnata a breve a pubblicare una nota in cui dovrebbe definire meglio la questione diciamo che anche in questo caso ve l'ho detto all'inizio l'importante è che il metodo sia utilizzato poi nel caso in cui e soprattutto quello che dice Rera l'elemento fondamentale è che il gestore prevalente cioè quello più importante del servizio presenti il PEF secondo l'MTR è ovvio che nel caso di servizi minimali l'esempio che si è fatto è se una cooperativa fa lo svuotamento di cestini soltanto nella zona del centro storico solamente in alcune aree della città questo è proprio il caso in cui può essere considerato prestatore di servizio sul limite e sul livello di discernimento tra prestatore di servizio e gestore oltre ad affidarsi ovviamente al buon senso di ogni comune di ogni ente dovrebbe uscire una nota di chiarimento in tal senso l'invito vi ripeto è chiedere a tutti per poi verificare o chi non risponde o chi può essere considerato come un servizio minimale all'interno dei vari servizi eventualmente poi mettere il costo direttamente all'interno del PEF ecco per esempio qui leggevo il nostro comune si occupa solo dello spazzamento delle strade allora lo spazzamento però è un servizio totale quindi se si fa tutto lo spazzamento e lavaggio delle strade ed è competenza del comune il comune in questo caso è un gestore nel caso in cui invece un gestore faccia lo spazzamento e lavaggio di tutte le strade il comune faccia soltanto semmai lo spazzamento in alcuni casi o solamente per alcuni giorni o solo per alcune aree della città in quel caso invece può essere considerato come prestatore di servizio ma ripeto l'importante è che il gestore fondamentale dei vari servizi segua il metodo perché il concetto di Arera è che sicuramente il PEF deve essere legato a costi ed a costi certi altro elemento molto importante invece è che cosa non può andare nel PEF e questo infatti il PEF deve essere predisposto inserendo solo i costi di natura ricorrente escludendo quindi le poste di costi e ricavi che hanno natura straordinaria compresi quelli riferiti ad annualità precedenti agli anni oggetto della raccolta dati tali componenti come il contributo MIUR o i ricavi afferenti a annualità precedenti non devono essere inserite nel PEF pertanto qualora tali poste fossero oggi inserite tra le componenti dei piani improvati queste dovranno essere detratte al fine di ripulire il PEF le stesse poste di ricapo saranno poi considerate dai singoli comuni in sede di approvazione dell'articolazione a scomputo degli importi qualificati nel PEF approvato dal soggetto competente analoga impostazione dovrà essere adottata per qualsiasi riduzione tariffaria precedentemente prevista queste devono essere gestite a valle dell'approvazione dei PEF nella fase dell'articolazione tariffaria da parte dei comuni quindi il PEF è relativo ai soli costi così come definiti dal metodo tutto ciò che invece è deconto contributo miur o anche incrementi di entrate tariffarie dovranno essere determinate dal comune e valutate a valle dell'approvazione del PEF nella delibera delle approvazioni delle tariffe qui ricordiamo quindi la parte del costo è il prezzo massimo che è quello determinato che esce dal metodo per cui il metodo va curato con grande attenzione ed è il motivo per cui anche prima e ve lo ripeto è importante definire quella triangolazione tra gestore ente laddove esiste comune perché spesso la relazione tra comune e gestore ce l'ha il comune e quindi è importante capire soprattutto i parametri alla fine quali sono in modo da equilibrare da una parte il prezzo massimo del servizio dall'altra l'equilibrio economico finanziario delle gestioni e qui andiamo su un tema che vedo diciamo molto molto caro soprattutto il primo una parte della semplificazione allora il metodo è pensato per una gestione continua di uno stesso gestore perché è un metodo che non va sul costo standard del servizio ma va in qualche modo è un metodo autoreferenziale quindi va sul gestore va a vedere i suoi costi eventualmente gli riconosce qualcosa in più o in meno a seconda anche per esempio del conguaglio 2018 ma è previsto che dal 2018 ad oggi sia lo stesso gestore cosa accade invece quando ci siano stati degli avvicinamenti gestionali e quindi proprio per quello che vi dicevo cioè che il metodo è pensato su una continuità di gestione il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile nel caso di un gestore che abbia iniziato attività nel 2019 o 2020 i costi possono essere parametrizzati con driver a propria scelta cosa significa che è stato contemplato nel caso in cui il gestore attuale abbia iniziato attività anche in una parte del 2019 si può prendere il costo del gestore di quella parte del 2019 e riportarlo all'intera annualità del 2019 e su quello costruire il metodo ovviamente nel caso di gestione avviate nel 2020 si può tener conto del valore definito dal contratto quindi di fatto il metodo non inizia con quest'anno ma inizierà poi con le annualità successive ricordiamo anche che nel caso in cui si sia verificato un passaggio al sistema di tariffazione puntuale ovvero lo stesso sia previsto a partire da quest'anno il metodo serve unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi quindi non per la differenziazione tra parte fissa e parte variabile che rimane invece nella possibilità di chi ha determinato la tariffazione puntuale un'altra semplificazione invece sulle immobilizzazioni in questo caso si può fare riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato e di quello puoi fare il conto delle immobilizzazioni ecco l'elemento sui gestori questa è anche fosse per aiutarvi a rispondere a eventuali note che i gestori vi possano inviare perché è quello che scrivono tutti i gestori cioè immagini scompaiono ed è il motivo per cui molti gestori soprattutto quelli che hanno un contratto siano vincitori di gare è in molte note che stanno inviando agli enti e comuni allora premesso che il costo derivante dall'MTL è il costo massimo se il costo dell'appalto risulta inferiore ed è garantito l'equilibrio economico finanziario può essere mantenuto nel caso invece in cui i costi riconosciuti calcolati applicando il metodo risultano inferiori rispetto al PEF dell'anno precedente ovviamente a parità di servizi l'ente territorialmente competente potrà utilizzare le leve previste dal metodo quindi è in questo Arera che cosa dice dice che il metodo è stato pensato proprio perché il PEF grezzo quello inviato dai gestori risulti un PEF netto tutto ciò che è invece un più rispetto a questi costi che sono costi tra l'altro rilevati da costi di bilancio del gestore sono determinati invece dall'ente esiste un elemento che invece già è a conoscenza del gestore e che è una parte del recupero per i gestori che di fatto è contemplato già all'interno del PEF scritto dai gestori che è la remunerazione del capitale circolante netto e degli investimenti per i quali è previsto un tasso di remunerazione abbastanza elevato questo l'abbiamo visto lo potete vedere nello scorso webinar che è determinato al 6,3% ed è un tasso discreto ed è proprio il senso che dovete anche spiegare al gestore cioè è l'investimento uno degli elementi di plus e di ricavo del gestore stesso gli altri elementi invece sono quelli determinati dall'ente e le leve secondo quello che è l'interpretazione di ARERA da utilizzare per il recupero della marginalità quindi c'è sicuramente l'elemento dello sharing e su questo approfitto per dire che i proventi da raccolta differenziata sono ampiamente nel metodo quindi è l'uso dello sharing cioè la condivisione degli incassi tra gestore e ente è proprio una delle leve per il recupero della marginalità nel PG e QL cioè nella parte dell'ampliamento del perimetro della qualità dei servizi e poi nel COI che sarebbe il parametro previsionale di incremento di qualità previsto nell'anno che sono quegli elementi che possono portare o in più rispetto alla tariffa determinata dal gestore e questo devono servire per arrivare all'equilibrio economico finanziario questo un altro elemento di cui permetto di soffermarmi un attimo anzi due allora uno l'elemento quindi l'equilibrio economico finanziario allora l'equilibrio economico finanziario del gestore non può che essere valutato alla fine di tutto il calcolo quindi quello che dovrete richiedere al gestore è di inviarvi il suo PEF grezzo e poi all'interno della relazione chiedergli di scrivere se ci sono a suo modo di vedere elementi di rischio per l'equilibrio economico finanziario della gestione del vostro comune se ci sono elementi quali sono gli elementi economici che lui ritiene si debbano mantenere per mantenere l'equilibrio economico finanziario solo alla fine del computo del PEF quindi determinati tutti quanti i parametri si potrà verificare se l'equilibrio è mantenuto o meno se l'equilibrio non è mantenuto vi ricordo che esiste sempre l'istanza che è competenza dell'ente andare a fare e quindi nel caso in cui non si mantenga l'equilibrio economico finanziario e anche l'ente quindi o il comune o lato ritengano che il gestore debba avere un ulteriore riconoscimento in tal senso si può accedere alla parte dell'istanza un altro elemento di riflessione è proprio sugli incassi della vendita dei materiali da raccolto differenziato da energie in molti casi comuni ci hanno segnalato che questi incassi sono all'interno del contratto e lì è determinato se questi incassi sono per il per il gestore o tutti quanti per l'ente anche in questo caso vi ricordo che il metodo supera i contratti e quindi così come leva sicuramente delle parti contrattuali o al gestore al lente così anche la parte di riconoscimento di vendita dei materiali deve essere eseguita ciò che è inserito nel metodo anche se nel contratto è determinato che quella quota sia utilizzata o a valere del lente o a valere del gestore e quindi anche su questo l'invito è comunque di andare a vedere bene nell'effetto dello sharing e cosa succede anche rispetto ai contratti in essere il metodo tariffario ricordiamo rapidamente che in realtà di metode anche di di novità ne ha molte e la prima l'abbiamo già detta in più di un'occasione cioè il corrispettivo è calcolato sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni si definisce un perimetro regolatorio quindi si definisce quali sono i servizi all'interno della parte regolata e quali sono fuori si definisce un limite di crescita annuale che è legato al miglioramento previsto alla qualità e alle modifiche del perimetro si definisce un fattore di sharing si prevede anche il ricalcolo dei costi coefficienti dell'anno a meno 2 con eventuale conguaglio e si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità e si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili in ultimo non per ultimo si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile questa è la parte che vedrete nel prossimo webinar l'attenzione che vi richiedo anche nelle note che invierete ai gestori dovete tarare rispetto ai vostri tempi dell'approvazione della tariffa ma anche rispetto ai tempi che probabilmente vi dovete prendere anche per rivedere il regolamento comunale perché di fatto il metodo va a variare la proporzione tra parte fissa e parte variabile vedrete che in particolare nella gran parte dei casi va a incrementare quella che è la parte variabile e questo determinerà anche un effetto delle scontistiche sicuramente previste all'interno del regolamento che dovrete andare a verificare dovrete andare a verificare soprattutto perché come abbiamo già detto prima poi tutta quanta la parte delle scontistiche è extrapef per cui è proprio all'interno del conto della tariffa e quindi vediamo i compiti del gestore e vediamo i compiti del gestore perché proprio vedendo che cosa è inserito qui dentro vediamo che poi gran parte di quello che esce alla fine è come dicevamo o nella parte della tabella dei dati o nella parte della relazione e e su questo quindi poi l'ente deve determinare semplicemente di parametrizzare anche la parte contenuta nella relazione quindi il perf da che cosa è composto da una tabella che è elaborata di fatto sullo schema è un excel che è l'appendice 1 del metodo una relazione di accompagnamento di cui l'appendice 2 ha uno schema tipo che deve essere seguito da parte del gestore e anche poi da parte dell'ente e una dichiarazione di veridicità allora anche su questo alcuni gestori hanno dichiarato l'impossibilità di compilare questa dichiarazione di veridicità e in questo mi permetto di dire che proprio la relazione e quanto contenuto nell'appendice in realtà la dichiarazione che dovrà fare il gestore è che i dati le informazioni e la documentazione trasmessi rilevanti ai fini tariffari sono completi e veritieri poi dichiara che le informazioni e i dati di natura patrimoniale economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili tenute ai sensi di legge del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono e poi che il titolo autorizzatorio sulla base alla quale si sta fornendo il servizio integrato è conforme o meno alla normativa vigente allora nulla di questa dichiarazione in realtà fa riferimento al come poi il gestore ha suddiviso i costi inseriti nel bilancio quindi è una dichiarazione fondamentalmente di veridicità del fatto che il gestore ha preso i dati di bilancio è ovvio che la suddivisione tra tutte quante le gestioni è a sua scelta discrezionale può essere sicuramente poi oggetto di una valutazione da parte dell'ente ma a mio modo di vedere per qualsiasi gestore vi è la possibilità di sottoscrivere questa dichiarazione di veridicità non si dice che il PEF così come è stato inviato o tutti quanti i dati economici così come suddivisi dai comuni sono veri quello è nella parte di relazione che è oggetto e può essere oggetto da parte anche di analisi da parte dell'ente o anche da parte di Arera in seconda istanza è importante però che il gestore si impegni a dichiarare che quegli elementi sono elementi presi dal suo bilancio ed è sicuramente diciamo un elemento poi delicato in tal senso ma è un elemento che è all'interno del metodo come vedete diciamo questo è lo schema tipo della relazione di accompagnamento che può essere utile anche per gli enti per capire se i gestori hanno o meno inserito tutto ciò che era richiesto all'entrata del metodo e la dichiarazione di veridicità di cui vi ho letto proprio la parte di dichiarazione del gestore per dire che insomma secondo me è una dichiarazione che può essere agilmente sottoscritta nel momento in cui uno si sente confidente dei dati di bilancio soprattutto che ha presentato e quali sono gli altri elementi quindi abbiamo detto deve andare a rettificare le voci di costo secondo quanto previsto del metodo seguendo il modello allegato alla delibera deve allocare le componenti di costo di investimento e di esercizio per ciascun anno determinate sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento quindi A-2 sarebbe il 2018 come risultante da fonti contabili obbligatorie quindi stiamo parlando di bilancio 2018 o elementi comunque contabili equivalenti il gestore deve determinare anche la componente a conguaglio relativi all'annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno A-2 confrontati con i ricavi dello stesso anno il gestore deve calcolare anche la componente di costo fisso e variabile riclassificandola secondo il metodo quindi ribadiamo di nuovo quindi a differenza di quanto succedeva con 158 nel 99 il gestore non determina completamente il costo del suo servizio perché il costo del servizio è determinato solamente alla fine quando anche l'ente avrà determinato i parametri di propria competenza quindi da questo punto di vista anche l'attenzione per tutti posto che il 30 di aprile è l'ultimo termine per l'approvazione delle tariffe è indubbio che il PEF da parte dei gestori deve essere inviato con congruo anticipo per poi andare a determinare le tariffe e come dicevo anche andare a rivedere i regolamenti oltre ovviamente al tempo minimo utile per la valutazione dello stesso PEF di quello che ha inviato il gestore ed eventualmente quindi eventuali anche correzioni dello stesso il consiglio ve lo ripeto di nuovo è che anche il gestore prima di inviarvi il PEF possibilmente possa avere già un incontro con l'ente in modo da verificare anche prima dell'invio il PEF così come lo sta per inviare premesso tutto questo il gestore già dovrebbe sapere del suo obbligo e quindi già dovrebbe sta lavorando sulla parte del PEF di propria competenza e all'interno del PEF dicevo già prima anche la parte descrittiva è fondamentale quindi oltre a dover descrivere come ha composto i costi inseriti nel PEF secondo il bilancio 2018 è necessario che il gestore inserisca anche i dati programmatici e anche i dati di risultati degli ultimi anni quindi deve avere il programma e il piano finanziario degli investimenti la specifica dei beni delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio e all'interno della relazione il modello gestionale e organizzativo con le variazioni eventualmente previste rispetto all'anno precedente i livelli di qualità di servizio e le eventuali variazioni la ricognizione degli impianti esistenti queste sono proprio le voci di PEF di competenza dei gestori e all'interno della relazione ci dovrà anche essere una descrizione del territorio le attività effettuate anche eventuali variazioni che ci sono state lo stato giuridico patrimoniale le sentenze e come dicevo le variazioni attese di perimetro quindi le variazioni di attività effettuate dal gestore cioè cosa prevede di fare nell'anno 2020 e anche le variazioni attese delle caratteristiche del servizio quindi anche qui le modalità e caratteristiche del servizio o dei singoli servizi e le prestazioni altri elementi fondamentali gli obiettivi relativi alla percentuale di raccolta differenziata e quanto è poi il livello effettivamente conseguito negli anni precedenti le risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti e l'efficacia dell'attività di preparazione per l'utilizzo di ciclo quindi per esempio proprio le impurità o frazioni estranee proprio della raccolta differenziata il dettaglio delle fonti di finanziamento e anche notizie ovviamente per l'esaurimento delle discariche in questo dovrà essere distinto ciò che è incluso nel servizio integrato e la gestione dei rifiuti urbani dalle attività esterne anche in questo caso la divisione tra servizi interni al perimetro e quelli esterni dovrà essere fatta con una descrizione anche dei costi quindi l'altra complessità è che nel caso in cui ci siano delle attività esterne anche queste per poterle portarle fuori dal perimetro andrà fatta una descrizione anche dei costi di questi servizi e appunto dicevamo cosa va spiegato il gestore dovrà spiegare il criterio con cui sono state ripartite soprattutto le poste comuni specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria in particolare se il metodo è congruente con la gara potrà dire che è congruente se invece dovendo fare riferimento ai costi sta utilizzando delle metodologie diverse ovviamente le stesse dovranno essere descritte e dovranno essere eliminate tutte le poste che vanno a aumentare o ridurre il totale dei costi in particolare poste di competenza ed esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi deliberati dall'ente territorialmente competente e andiamo proprio a uno degli elementi più delicati di questo metodo che è il conguaglio il conguaglio questa è la formula generale della della tariffa e vedete che il conguaglio è proprio l'ultimo elemento sarebbe questo 1 più gamma r c con a diviso r allora questo è proprio il classico elemento che è condiviso tra gestore e ente cioè il risultato finale è proprio derivante dal calcolo di quello che fa il gestore ma anche dalla valutazione dei parametri che invece sono determinati dall'ente e questa è sicuramente una delle parti più controverse perché avere un conguaglio significa di fatto ricalcolare il PEF 2018 sulla base dei costi effettivi quindi sulla base del bilancio 2017 e quindi questo significa poter avere un delta in più o in meno all'interno del nostro PEF di quest'anno questo perché avviene questo avviene perché Arera l'abbiamo detto all'inizio ha iniziato ha avuto la sua delega al dicembre del 2017 per cui ha avuto l'inizio della sua attività e anche della sua efficacia e nel 2018 e quindi questo è il motivo per cui pur iniziando il il computo del nuovo MTR con 2020 ha inserito anche il 18 per quest'anno e il 2019 per il 2021 un ricalcolo di quello che era il PEF 2018 con il calcolo anche di un possibile conguaglio che può essere ripeto positivo o negativo cioè significa che ci potremo trovare in una condizione di ridare dei soldi al gestore o invece di poter ridare dei soldi ai cittadini nel caso in cui ovviamente il calcolo venga inferiore quindi costi efficienti di servizio in investimento riconosciuti per gli anni 18 e 19 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono determinate a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ovvero per il 2018 l'anno 2017 come risultanti da fonti contabili obbligatorie quindi di nuovo il bilancio il conguaglio come dicevamo va a sommarsi nei costi per l'annualità 2020 relativo al solo anno 2018 i costi 18 e 19 non sono quelli a consuntivo ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti istat il cui valore è definito dall'autorità per il 2018 è pari al 0,70% allora il conguaglio l'algoritmo è piuttosto complesso e vi approfitto per dire che stanno conoscendo anche varie formule e anche software per la parte di calcolo quindi vi invito a non spaventarvi con le formule le formule in questo caso ci devono servire soltanto per capire come funziona questo parametro la parte di conguaglio anche si divide in una parte fissa e in una parte variabile il conguaglio ripetiamo può avere segno negativo o positivo a secondo che il gestore o i gestori abbiano incassato effettivamente nell'anno di riferimento più o meno di quanto previsto dal nuovo metodo quindi noi che cosa stiamo facendo stiamo tornando nel 2018 stiamo vedendo vedete l'ultima formula quindi rc tv uguale tv new meno tv old quindi tv new sarebbe la parte variabile calcolata con il nuovo metodo meno la parte variabile così come usciva nel peff 2018 è identico anche per la parte fissa questo cosa cosa significa significa di fatto andarsi a ricalcolare tutto il peff del 2018 quindi il gestore in realtà dovrà calcolare due peff quindi il peff 2020 sulla base del 2018 e ricalcolare il peff 2018 secondo il nuovo metodo dopodiché fare la differenza e capire se c'è un conguaglio positivo o negativo e vedete le formule sono identiche a quelle del metodo complessivo e quindi come per l'ammontare dei costi 2020 anche la componente di conguaglio è definita da una rendicontazione analitica del gestore da coefficienti che vengono determinati dall'ente territorialmente competente e l'ammontare del conguaglio 2018 incide nella determinazione dei costi per l'anno 2020 secondo un criterio di gradualità che prevede la definizione a cura dell'ente sia di un parametro gamma che è dato dalla somma di tre parti tre parti che per intenderci è uno i risultati dell'accolta differenziata due la quantità di scarti della selezione tre i risultati dell'indagine di soddisfazione degli utenti e poi invece c'è un parametro questo sì molto importante che è un parametro relativo alla rateizzazione di questo conguaglio il rateo che può andare tra un'annualità e quattro annualità ovviamente questo è un altro degli elementi molto importanti per diluire l'effetto di questo conguaglio considerato però che se lo andiamo a diluire ovviamente sarà un'altra parte che ci porteremo anche nel PEF degli anni successivi quindi per la determinazione del parametro di conguaglio si dovrà operare un vero e proprio ricalcolo secondo il nuovo metodo tariffario con alcune semplificazioni definite dal metodo allora qui solo per dirvi anche qui esiste il calcolo del fattore di sharing quindi la condivisione degli incassi da vendita dell'energia o altri materiali e la vendita dei materiali con AI dell'anno ovviamente 2018 quindi riferiti al 2017 questo è stato lasciato questo fattore di sharing ed è in realtà un fattore che serve unicamente per riequilibrare per diminuire più possibile il conguaglio quindi Arera nel valutare che il conguaglio sicuramente è un elemento negativo rispetto al PEF di quest'anno perché va a introdurre un ulteriore onere rispetto al PEF di quest'anno e rispetto a questo ovviamente va a inserire invece questo fattore di sharing per andare a diminuire il più possibile questo conguaglio sia in positivo che in negativo e quindi cerca di andare a compensare questo stesso conguaglio vi ripeto non vi fate troppo spaventare dalle formule questo ci sono dei software di cui si sta discutendo anche con Arera se possono essere validati o meno ma saranno sicuramente pubblicati a breve e in questo andando verso la fine per lasciare anche un attimo semmai alla dottoressa proia se voleva riprendere un po' di domande semmai più importanti che erano venute in questo momento un'unica precisazione la volevo fare proprio sulla perimetrazione della regolazione tariffaria perché oltre quelli che sono le parti approvate da Arera quindi all'interno della gestione cioè spazzamento e lavaggio delle strade raccolto e trasporto di rifiuti trattamento recupero e smaltimento di rifiuti il controllo delle discariche dopo la chiusura e la gestione delle tariffe del rapporto con gli utenti in realtà va aggiunto a questo perimetro da ultime interlocuzioni con Arera anche la pulizia delle caditoie che pure era stato oggetto di varie domande all'altro webinar e ricordiamo che sono inclusi nei perimetri anche i costi della raccolta di rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche e quelli su aree nili e rive fluviali e lacuali nonché aree cimiteriali quelli esterni ricordiamo ancora che tra quelli esterni è la parte ad esempio di derattizzazione disinfestazione spazzamento e sgombero neve cancellazioni scritte vandaliche di affissioni manifesti abusivi gestione dei servizi igienici pubblichi e gestione del verde pubblico così come la manutenzione delle fontane ricordiamo che tutti questi l'abbiamo già citato prima non vanno ad oggi fuori dal PEF ma l'autorità consente di tenerla all'interno del PEF e cura del gestore separare i costi relativi a queste attività esterne rispetto a quelli interni e c'è una voce ad hoc del PEF dichiarato dal gestore che consente di inserire questo costo e quindi rimane ad oggi all'interno della tariffa abbiamo tante domande sul versamento del contributo noi abbiamo già ribadito all'interno del nostro sito con una notizia apposita che il contributo non deve essere versato per i comuni che svolgono esclusivamente attività di gestione delle tariffe in rapporti con l'utenza qualora invece insieme a questa attività sia svolta un'altra attività come ad esempio quella sullo spazzamento il comune deve versare il contributo i termini per il versamento come ha già ricordato l'ingegneria Cotucci sono scaduti il 17 febbraio ma riteniamo che ci sia ancora tempo per il versamento di questo contributo per quanto invece riguarda la determinazione della base imponibile cioè dove fa riferimento e quantificare il contributo ricordo a tutti che c'è una linea guida di Arera una determina la principale la numero 173 DAGR del 2019 dove ci sono tutte le indicazioni su chi deve versare il contributo come si versa qual è la base imponibile quindi rinvio a questa determinazione tutte le domande relative al contributo oltretutto preciso anche che noi non possiamo accedere al portale della Rera quindi non possiamo vedere da dentro cosa sono e quali sono le domande specifiche dei questionari e anche relative al contributo quindi se avete domande specifiche vi prego di scrivercene in maniera dettagliata altra domanda invece che aleggia molto in questa chat Francesco è in caso di avvicendamento del gestore cioè cosa succede non so se lo tratterai dopo o vuoi rispondere subito ma ok sì non l'abbiamo già detto ma la posso ripetere allora scusate torni indietro così può essere qualcuno si è collegato dopo allora torniamo al caso scusate se risfoglio le allora sì perché appunto era una delle domande anche più ecco qua allora allora qualora siano intervenute avvicendamenti gestionali il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile nel caso in cui un gestore abbia iniziato l'attività nel 2019 o 2020 i costi possono essere parametrizzati con driver a propria scelta nel caso di gestione avviata nel 2020 si può tener conto del valore definito dal contratto avevo già detto lo ribadiamo il metodo ad oggi ha come filosofia una continuità di gestione quindi bisogna andare da oggi al ritroso fino a dove esiste una gestione in continuità se esiste si prende l'ultimo dato eventualmente anche ampliando all'intera annualità proporzionalmente a quelli che sono stati i mesi di funzionamento rispetto a quell'anno e si fa partire il metodo da quel momento in poi è ovvio che se l'attività non è iniziata nel 2018 proprio la parte di conguaglio non potrà essere calcolata e così poi per tutte quante le ulteriori semplificazioni che vengono dal metodo quindi di fatto si parte dall'anno da cui è iniziata l'attività del gestore attualmente in uso nel comune allora io ho segnato in blu le domande che saprò se c'è altro come domande o altre specifiche se vuoi puoi rispondere in diretta allora per esempio ti segnalo la regione Liguria ha individuato i comuni quali enti ah no allora questo l'abbiamo già risposta che riguarda l'avvicendamento di ditte la contribuzione a Rera ho già spiegato che è opportuno riferirsi alla determina stessa 173 per informarsi circa chi deve versare il contributo noi purtroppo su questo non siamo molto preparati nel senso che è molto meglio chiamare il call center a Rera per essere sicuri del versamento in caso di dubbio che chiedere a noi insomma io questo lo preciserei chiamate il call center a Rera ai numeri che ha indicato prima l'ingegneria Cotucci non so se è indicato il numero verde comunque è disponibile sulla home page di Rera per quanto riguarda il resto direi di andare avanti e ti segnalo nel tempo le altre domande allora approfitto per invece proprio questa è la regione Liguria perché è uno dei casi di quelli che stavamo dicendo cioè un caso in cui la regione ha deliberato a chi spetta cioè ha deliberato che l'ente territorialmente competente è il comune e quindi sulla base di questo il comune è l'ente territorialmente competente deve approvare il PEF regolare la parte anche dei parametri e poi approvare l'articolazione tariffaria allora qui esiste un altro elemento che non avevamo affrontato perché in realtà sarà affrontato nella giornata di domani però lo diciamo comunque allora uno degli elementi dell'approvazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente è un'esigenza di terzietà quindi è fondamentale che il comune nel momento in cui deve andare a validare il PEF sia terzo rispetto al gestore e mi spiego allora se il gestore se il comune non fa nulla della parte di gestione ovviamente il problema non sussiste perché diciamo può ampiamente validare perché il gestore è fuori dal comune nel caso in cui per esempio il comune faccia la parte delle tariffe ovviamente c'è un'esigenza anche come articolazione interna del comune determinare chi possa validare soprattutto la parte di competenza del comune perché c'è un'esigenza di terzietà quindi questo poi sta ai comuni organizzarsi internamente o se hanno personale all'interno della ragioneria o da parte del segretario generale o con la ragioneria generale andare a verificare come può essere fatta la validazione ma indubbio che gran parte della validazione può essere fatta a mio modo di vedere in unione tra parte della ragioneria e parte anche dell'ufficio di fiuti o ufficio tecnico del comune perché in realtà sono le due competenze che consentono di validare il PEF soprattutto di un gestore esterno perché semmai c'è da una parte l'ufficio tecnico che ha la parte di interlocuzione con il gestore quindi la parte tecnica e anche sa quali sono stati i mandati del gestore dall'altra invece gli uffici della ragioneria che hanno maggior competenza a vedere all'interno dei bilanci che sicuramente hanno maggiore capacità di capire se i dati inviati hanno un fondamento rispetto a quanto deve essere inviato all'interno del metodo scusate sto sfogliando le domande se no se vuoi puoi andare avanti e poi tra un po' te le segnalo oppure te le sottolineo in blu come vuoi tu va bene va bene allora andiamo ancora avanti allora scusate ritorniamo a dove stavamo in da Allora un altro elemento pure di grandi domande da questo punto di vista sono i due costi, cioè le attività di trattamento e smaltimento e trattamento e recupero. Allora qui Arera da una parte ha fatto una semplificazione perché nel caso in cui il gestore non svolga direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le due componenti di costo sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio e i quantitativi conferiti, il tutto con riferimento al 2018. E ricordiamo che questo sarà oggetto poi di una determinazione Arera che non è ancora intervenuta e che è prevista per il prossimo biennio. Allora questa che era stata inserita come una grandissima semplificazione di fatto di questo conto, in realtà per molti gestori ma anche riferito ad enti qualora avessero direttamente l'appalto per la parte di trattamento e smaltimento, hanno segnalato la difficoltà riferita a un incremento nell'ultimo biennio di questi costi, soprattutto di trattamento e smaltimento. Questo elemento è stato poi vagliato anche da Arera che ha confermato però che nel calcolo delle entrate tariffali all'anno 2020 si applica il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi e dell'attività di trattamento e smaltimento relativi all'anno 2018. Se poi la dinamica di costi è molto accentuata, lo stesso va segnalata ed è proprio una delle possibilità di istanza da parte dell'ente. Allora questo è uno degli elementi più delicati perché è proprio uno dei casi in cui il gestore può richiedere un incremento rispetto a quanto lui ha calcolato rispetto a un equilibrio economico e finanziario. Come già abbiamo detto prima, questa valutazione, quindi anche la valutazione dell'istanza, che è sottoscritta dall'ente, non è sottoscritta dal gestore, ma da questo punto di vista è fondamentale che l'ente, territorialmente competente, quindi chi andrà ad approvare il PEF, valuti questo equilibrio economico e finanziario solamente a valle di tutti quanti i conteggi fatti rispetto ai parametri di propria competenza. Se non c'è la possibilità di rientrare all'interno di quei costi, vi è la possibilità di sforare rispetto al limite tariffario, con una giustificazione e una relazione che l'ente dovrà inviare. Per quanto riguarda, ho letto prima la parte di conguaglio, allora vi ho detto, il computo dell'RC, quindi proprio come numero, quello viene fatto dal gestore. Gli altri due parametri, cioè uno più gamma e la parte di rateizzo, invece viene determinata dall'ente territorialmente competente. Per cui il conguaglio di fatto è fatto insieme, perché al solito il gestore fa il netto, quello che poi è, quello che esce alla fine, di fatto è determinato invece dall'ente. E l'effetto di questi parametri, che sono, vi ho detto prima, soprattutto parametri qualitativi del servizio, cioè parametri determinati dal parte di raccolta, qualità della raccolta differenziata, oppure qualità del materiale inviato al riciclo, o i risconti degli utenti, tutto questo è fondamentale perché va a determinare poi l'effettivo conguaglio che andrà all'interno del costo 2020. Per quanto riguarda invece le tariffe di trasporto, quindi di smaltimento e di recupero, è importante che, come vi dicevo, nella relazione il gestore evidenzi eventuali incrementi importanti di quantità e di costo rispetto a queste parti ed eventualmente segnali se vi è un problema di equilibrio economico-finanziario della gestione relativo a questo elemento. E i costi efficienti, abbiamo già visto che cosa non è all'interno, non è considerato, e sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno a meno 2, e in particolare, ecco vedete, i costi riconosciuti sono tutte le voci in natura ricorrente, sostenute nell'esercizio A-2 e attribuite al servizio di ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. In particolare, vedete, qui si fa riferimento proprio alle voci di bilancio, e questo dovrà essere anche quello che poi dopo invierà lo stesso gestore. Il gestore dovrà fare riferimento a queste voci di bilancio, quindi B6, B7, B8, fino a 14, e di queste, come abbiamo detto, poi eventualmente determinare qual è il driver di divisione nel caso in cui lui non faccia la parte di gestione solamente per un unico ente. Scusate, stavo leggendo le domande. Allora, anche in presenza di servizi resi dal comune, il conguaglio va fatto sempre, perché va fatto ovviamente da parte del gestore che segue il servizio. Abbiamo altri, non so quanto abbiamo Francesco, 10 minuti? Alla fine, un quarto d'ora alla fine. Allora, qualcuno mi chiede, il prestatore di servizi deve mandare i costi al gestore già elaborati secondo l'MTR o spetta solo a quest'ultimo elaborare i costi secondo l'MTR? Allora, abbiamo detto la complessità di definire il prestatore di servizio. Allora, diciamo che se questo gestore effettivamente fa una parte particolarmente residuale che probabilmente sarà definita da Rera e quindi ha un costo molto basso rispetto al complessivo, in realtà non deve inviare la parte dell'MTR, ma basterà il suo costo così come preso dalla gestione o dall'appalto in essere e quello potrà essere messo direttamente all'interno del PEF. Ad esempio una mareggiata, ci segnalano una mareggiata, quindi un costo di natura... Allora, se sono di parte straordinaria, prima di tutto bisogna vedere che tipo di costi sono, però quello sarà un costo rilevabile da bilancio rispetto agli effettivi costi di quell'anno, quindi è proprio l'inverso di un PEF. In questo caso, se è rilevabile da costi a consuntivo di bilancio del gestore, in realtà in questo caso i costi ci si ritrovano pari pari. E nel caso in cui invece fossero attività esterne al perimetro, allora anche in quel caso però possono essere messe all'interno del PEF e possono essere determinate rispetto a come dice il metodo. Cioè in questo caso funziona in maniera positiva rispetto al PEF, perché se è un costo che io ho messo a bilancio, è un costo che quindi viene automaticamente all'interno del metodo, anche se viene da un caso straordinario, ma è di fatto un costo del gestore. per fare attività di spazzamento delle strade. È corretto considerare il Comune solo gestore delle tariffe e rapporti con l'utenza? I costi degli operai vengono inseriti nel PEF, nel CARC e per metà nei CGG, nei costi generali di gestione. Il costo, quest'ultimo costo, incide per il 5% sul totale del costo del PEF. Allora, se incide in totale del 5%, in realtà bisognerebbe vedere anche quanto incide sul costo di spazzamento e lavaggio. Diciamo, io su questa percentuale non mi spingo, però, di fatto, questi costi vanno attribuiti correttamente. Cioè, questo personale va attribuito al costo di spazzamento e lavaggio. Se è residuale rispetto al gestore complessivo di spazzamento e lavaggio, quindi, come dicevamo, questi operai vengono utilizzati per dei servizi residuali rispetto al servizio spazzamento e lavaggio, che probabilmente sarà fatto da un operatore esterno, allora effettivamente è possibile metterli come costo netto, quindi preso dal bilancio, come costo all'interno del PEF, ma nella parte spazzamento e lavaggio, quindi mai nei costi generali o nel CARC. Perché anche qui, e qui mi raccomando, anche una grande attenzione, anche nei costi CARC e nei costi generali c'è una ridefinizione all'interno del metodo e va seguita ed eventualmente va specificato anche in che modo sono stati presi quei costi dal bilancio dell'ente stesso. Comunque, in generale, quindi, se il comune ha degli spazzini, il costo di quegli spazzini va nel PEF all'interno dello spazzamento e lavaggio. Se è residuale rispetto al servizio di spazzamento eseguito all'interno del comune, è possibile mettere solamente il costo, quindi non applicare tutto il metodo a questo servizio. ha una mancata copertura dei costi del servizio nel 2020. La differenza, come si finanzia il solito bilancio comunale? Io ho già risposto parzialmente dicendo che ci sono diversi strumenti per finanziare questa differenza, però ritengo che sia uno dei problemi più sentiti, più importanti, al quale forse è opportuno rispondere un po' più con precisazioni. Sì, è importante. Sì, l'ho detto durante la presentazione, ma lo ribadiamo. Allora, quello che esce dal metodo è il costo massimo, quindi non è possibile coprire questo costo in alto modo. Quello che deve guidare l'approvazione del nostro PEF è, uno, quello che esce dall'MTR è il costo massimo, per cui vi dicevo, attenzione anche alla selezione dei parametri, perché se quello che esce dall'MTR è molto lontano dal PEF dell'anno precedente, è importante scegliere dei parametri che avvicinino il costo calcolato all'MTR al PEF. Qualora non ci si riesca, ma il nostro punto non è il PEF, il nostro punto è, da una parte dell'MTR, dall'altra l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Quindi non è più nel contratto nel PEF, ma quello che ci deve guidare è l'equilibrio economico-finanziario, per cui vi ho ribadito, in più di un'occasione, che è fondamentale che il il gestore nell'inviare il PEF, la parte di PEF di propria competenza, segnali eventuali distanze, non tanto dal contratto, perché non è nella norma, vi ripeto, non è più all'interno della norma il fatto che bisogna seguire il contratto come costo del servizio, ma è l'MTR, ma eventuali delta necessarie all'equilibrio economico-finanziario della gestione. Qualcuno ci dice che il questionario da compilare per ARERA, molto probabilmente, quello per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, è stato prorogato al 5 marzo. Chiedo ai partecipanti per favore di confermarci questa notizia. non so Francesco se vuoi vedere tu, molte le domande sottolineate sono quelle già risposte da me, se vuoi procedere in ordine sparso, chi dei due fa prima di individuare una domanda particolarmente significativa la pone. Sì, infatti lo sto sfogliando, scusate ma è difficile parlare e seguire anche... Allora, voglio chiarire una cosa, Allora, sulla parte proprio del conferimento di cui abbiamo parlato prima, dello smaltimento, Allora, qui... Allora, potrei chiarire questa frase iniziale. Allora, nel caso in cui il gestore non svolga l'attività di trattamento e smaltimento, cosa significa? Nel caso in cui il gestore, diciamo il nostro gestore che fa la raccolta per il comune, non gestisca direttamente l'attività di trattamento e smaltimento, quindi non abbia già lui o non gestisca per il comune anche questa parte, quindi queste... o comunque abbia direttamente un appalto con terzi, quindi questi costi vengono calcolati come moltiplicazione tra il corrispettivo e i quantitativi conferiti. Quindi è ovvio che ci sarà un gestore della discarica o un gestore dell'impianto semmai di incenerimento, ma non è questo che si sta chiedendo in questo momento. Cioè, la semplificazione è se non c'è un gestore integrato quindi che fa la raccolta ma possiede anche questi impianti, allora, tutti quanti gli altri casi in cui è un gestore questo del trattamento recupero-smaltimento è un gestore terzo rispetto a tutti quanti i nostri gestori di raccolta e di spazzamento, tutti quanti quelli che ne abbiamo, vanno trattati tutti uniformemente in questo modo, sia se l'appalto l'ha fatto direttamente il comune, sia nel caso in cui l'appalto è fatto direttamente anche dal gestore di trattamento perché non è lui a determinare quei costi per lui appunto sono in questo modo vengono da un appalto. Come già detto, questo poi invece sarà rivisto sulla base di una determinazione di Arera che dovrebbe arrivare quindi a una determinazione del cosiddetto prezzo al cancello per questi vari impianti ma diciamo di questo poi vedremo quando uscirà la determina. In questo momento quindi gran parte dei casi a meno che appunto non ci sia l'affidamento a un gestore integrato che possiede anche impianti quindi per tutti quanti gli altri casi va utilizzato in metodo così come illustrato. Quindi il prodotto tra il corrispettivo e i quantitativi conferiti. Mi permetto di rievidenziare che sia i corrispettivi che i quantitativi sono riferiti al 2018. Quindi anche in questo caso qualora ci siano anche quantitativi maggiori cosa che può essere faccio riferimento per esempio all'organico alla raccolta dell'organico che sicuramente è un costo così come lo è l'indifferenziato qualora sia incrementato di molto anche questo può essere uno dei casi che possono essere segnalati dal gestore come sforamento del tetto o può essere segnalato dallo stesso ente qualora sia lente a determinare poi il rapporto con questi gestori per trattamento e sbattimento e recupero. Nella redazione del PEF classico l'inserimento delle riduzioni aumentava il costo da coprire le tariffe ora se i costi massimi sono quelli di Arera in che senso li possiamo considerare in sede di approvazione delle tariffe? nel senso che va inserita all'interno della delibera questo non è per Arera questo non è un costo del servizio quindi tutto questo all'interno del nostro deliberato potremo avere dei più o dei meno quindi a deconto o a incremento di quello che è la tariffa poi riconosciuta agli utenti secondo quelle che sono poi questi parametri l'importante in generale è che il costo del servizio sia integralmente coperto quindi la raccomandazione soprattutto per le riduzioni riconosciute all'interno del regolamento è che o abbiano una giustificazione di effettivamente minori costi o che siano totalmente coperte poi invece da altre entrate tariffarie del comune devo riannare al aperto il segno eccolo qua ho saltato un'altra ecco eccoci qua quindi ripetiamo il perf deve essere predisposto inserendo solo i costi di natura ricorrente escludendo quindi le poste di costi e ricavi quindi appunto più e meno che hanno natura straordinaria complesi quelli riferiti a annualità precedente agli anni oggetto e la raccolta dati tali componenti come il contributo miur o i ricavi afferenti a annualità precedenti non devono essere inserite nel PEF pertanto qualora tali poste fossero oggi inserite tra le componenti dei piani approvati queste dovranno essere detratte al fine di ripulire il PEF le stesse poste di ricavo saranno poi considerate dai singoli comuni in serie di approvazione a scomputo degli importi quantificati nel PEF approvato dal soggetto competente analoghe impostazioni devono essere adottate per qualsiasi riduzione tariffaria queste devono essere gestite a valle quindi in realtà è la stesso quello che noi facevamo all'interno del PEF banalmente lo dobbiamo fare fuori nella delibera di approvazione delle tariffe perché parla di ripulitura del PEF perché nel riferimento dell'incremento tariffario tra il 20 e il 19 in cui si fa riferimento al PEF del 2019 il confronto deve essere fatto a parità di PEF quindi il PEF 2019 va preso così com'è ma va appunto ripulito da eventuali componenti straordinarie di questo genere allora molti ci chiedono il programmino che consente di elaborare il PEF allora noi ci stiamo lavorando non è semplice perché la quantità di informazioni da inserire è tanta e comunque siamo in un clima in cui è necessario che anche con i gestori oltre che con le autorità d'ambito condividiamo alcune impostazioni quindi perché quello che deriva da quello che esce da noi dovrebbe essere parimenti rispondente a quello che dovrebbe uscire sia dalle autorità d'ambito che dai gestori quindi la risposta è ci stiamo lavorando speriamo nel più breve tempo possibile di darvi un riscontro e soprattutto di mettere a disposizione un sistemino per il calcolo nel caso comunque appunto ricordiamo l'elemento fondamentale è richiedere anzi come vi abbiamo detto pretendere dai gestori l'invio del PEF completo secondo l'MTR poi l'elemento successivo che è quello dell'analisi dei parametri e quindi poi la definizione ultima della tariffa sicuramente a breve da questo punto di vista ci sarà poi un software che ci aiuterà a valutare l'effetto di questi vari parametri con la responsabilità della validazione dei PEF dovrete chiedere importante richiedere al lato il PEF per ciascun comune non va bene il PEF d'ambito quindi voi dovrete approvare le tariffe necessariamente entro il 30 aprile sulla base del PEF fatto per voi cioè un PEF comunale sulla base del PEF comunale quello che è importante che ha ribadito più volte il nostro regolatore Francesco Iacotucci e che abbiamo ribadito in tutti i nostri incontri territoriali è che la data del 30 aprile per l'approvazione delle tariffe è improcrastinabile quindi quello che voi approverete sarà già efficace a tutti gli effetti quindi i tempi per l'approvazione voi sapete che non si aggirano a meno di 20 giorni perciò dovrete chiedere in tempi congrui l'invio o del PEF o del PEF dall'autorità d'ambito o del PEF dal gestore almeno un mese prima poi ovviamente questo dipende dalle vostre relazioni sia col gestore che con lente d'ambito però ci deve essere un congru lasso di tempo all'interno del quale inserire tutti i vostri adempimenti insomma i tempi previsti per gli adempimenti per l'approvazione delle tariffe allora noi abbiamo esaurito il tempo io non so se Francesco ha qualcosa da aggiungere no no solo appunto di riferimento a questo rispetto proprio alle scadenze appunto se lente d'ambito si è preso l'onere di approvare il PEF io aggiungo soprattutto nel caso in cui il rapporto con il gestore poi ce l'avete voi comuni di dialogare con l'ente d'ambito per capire poi qual è il punto finale rispetto alla tariffa e soprattutto come abbiamo visto con la delicatezza anche dell'equilibrio economico finanziario su quello se l'ente vi ha scritto dicendo io mi impegno ad approvare il PEF appunto scrivete anche voi ti rimando dicendo che non solo dovete averlo per tempo ma richiedete anche un confronto sul PEF in modo da non avere sorprese a cui poi dopo è difficile poi il rimedio a partire da domani sul nostro sito e ringrazio tutti i colleghi della formazione che rendono possibile tutto questo soprattutto rendono possibile il contatto con tutti voi anche in questi periodi diciamo di restrizione di spostamenti per i motivi che conosciamo tutti vi aspetto domani domani sempre a mezzogiorno ci sarà invece l'intervento dell'ingegner Giaccetti cercheremo di rispondere le vostre domande che sono moltissime e noi siamo appena un pugno di persone interessate a questo ma cerchiamo di supportarvi e di aiutarvi nel miglior modo possibile a breve vi ricordo pubblicheremo una nota quindi la nota di chiarimento insieme a questi webinar e le slide che mettiamo a disposizione sono sicura che riusciranno a soddisfare gran parte dei vostri dubbi e delle vostre domande per quanto invece riguarda le questioni solo lato Arera nel senso del versamento del contributo la compilazione del questionario al di là delle nostre risposte cercate sempre un contatto con il numero verde Arera o se ritenete anche con la PEC perché è importante sapere chi e in quale misura va versato il contributo in caso di dubbi richiamo comunque sempre la determina 173 che presenta elementi di chiarezza anche se possono sfuggire alcuni elementi allora vi auguro buon lavoro ringrazio ancora tutti a domani a domani per Grazie.